La pallavolo con le parole del coach di Modena Volley, Alberto Giuliani, al microfono di Filippo Marelli nel secondo giorno di preparazione al Palapanini. Ci salutiamo con questa intervista, buon proseguimento di serata. Si chiudono i palazzetti di Parigi, si aprono quelli dei club, partiamo dall'insomma, che Olimpiade è stata? Olimpiade è un livello altissimo, avete visto tutti quanti, credo che delle formazioni che sapevamo fossero forti si sono confermate, grosse novità non ce ne sono state, direi solo che il livello è stato veramente alto sia come individualità sia come gioco di squadra. Complimenti a Giulio, complimenti a quello che il movimento femminile ha fatto, veramente tanta roba, direi che anche la squadra maschile ha espresso una buonissima pallavolo. Si riparte qui, senza i quattro nazionali, con un progetto nuovo, con solite ambizioni, immagino il solito entusiasmo, con cos'altro? Assolutamente sì, entusiasmo di preparare la squadra ad avere qualità, questo ci interessa in questo momento, quindi qualità fisica, qualità tecnica e poi in un secondo tempo qualità di squadra. Questo è quello che ci interessa in questa preparazione che vogliamo sia totale senza sottovautare nessun aspetto. Vorrei una squadra che capisse in fretta come affrontare emotivamente i diversi fondamentali, una squadra che sia molto aggressiva, che vada a fuoco in difesa e in copertura per esempio, una squadra che ragioni molto di più in attacco, mi piacerebbe dare questa differenza emotiva nell'affrontare le diverse situazioni di gioco.